Anna Maria Petti è la nipote di Vincenzo Colucci, un pittore ischitano di cui il 22 venerdì inizierà una mostra a Roma. Io volevo ricordarlo perché da bambina sono sempre andata nel suo studio che ritenevo il più bello di Roma che era appunto nel cortile via Margutta 54 nel palazzo dei patrizi per cui fin da piccola proprio ho potuto andare ho potuto vedere quanta simpatia poi discoteva perché sempre pieno di gente di artisti di persone nel campo dell'arte sia nel campo letterario per cui veramente è stato sempre una gioia poterlo e lui aveva un successo perché aveva un carisma che per la sua eleganza per il suo modo di porgersi insomma devo dire veramente una persona un po' eccezionale sicuramente. Lui frequentava tra l'altro anche altri artisti dell'epoca lei ha qualche aneddoto particolare che vuole raccontare? Per esempio so che sia De Chichirico sia Omiccioli e adesso quelli che mi vengono in mente ma tanti altri proprio per esempio pure lo scultore che ha fatto la come si chiama la sala nervi al Vaticano che era Pericle Fazzini era pure un suo amico poi c'era Peikoff a cui lui ha dato pure un secondo studio che lo l'ho detto a lui per avere per un periodo insomma tutto questo proprio mi crea tanti ricordi mi ricordo per esempio quando fece questo grande quadro che adesso sta alle terme di regina Isabella che è un quadro enorme perché è stato messo appunto alle terme dove rappresenta proprio queste donne sui cavalli donne bagnanti delle terme e in fondo c'è il Vesuvio altri pezzi di Napoli nonché quelli di Ischia così come sottofondo e fu proprio la settimana Incom allora c'era che io ero presente e venne a prendere tutto un servizio di questo quadro poi che posso dirle i nostri amici buitoni gli scrittori Mario del Monaco i De Filippo i De Filippo erano tutti amici sia di mio zio Enzo che di che di zio Edoardo che anche lui è un pittore noto e bravissimo insomma veramente devo dire che la carica di questi mi hanno dato sempre molto lustro perché proprio sarà il mio affetto che ho nutrito ma insomma veramente ne sono innamorata